Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa San Paolo. Almanacco di bellezza 21 novembre Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, cari amici cari amiche dell'almanacco abbiamo ricevuto una graditissima segnalazione e molto preziosa da Gottardo Pallastrelli per segnalarci una bellissima finissima sofisticatissima mostra a Piacenza in un luogo molto raffinato la galleria Ricci Oddi inaugurata da poco perché è stata inaugurata il 10 novembre scorso e la mostra si può visitare fino al 2 marzo del 2025 si intitola l'artista e il libro da Rodin a Picasso. 30 libri di grande rarità e bellezza selezionati da una raccolta quella dei volumi del collezionista e bibliofilo Giovanni Aldo Brandini. Clemente Ottavo si vola altissimo si vola altissimo davvero è una finestra questa sulla fascinante intersezione tra arte e libro Picasso, Derain, Rodin, Dali, Duchamp, Matisse insomma. E poi parliamo degli stampatori, degli editori, dei legatori, degli artigiani del libro. Allora l'appuntamento da non perdere è alla galleria Ricci Oddi di Piacenza. Una collezione molto sofisticata che merita una visita per chi non l'ha mai vista o un ritorno tra l'altro se ne è parlato tanto di questa galleria perché il Klimt prima rubato e poi ritrovato diciamo ha fatto parlare molto di Piacenza. È una storia tra l'altro molto interessante ne parleremo probabilmente in futuro e quindi tutti a Piacenza. e grazie a Gottardo Pallastrelli. Evviva! Oh grande Marlow, ora so quanta verità c'è nei tuoi versi. Chi ha mai amato se non ha amato al primo sguardo? Dulce Febe! Ah, ah, cosa dici Silvio? Dulce Febe, abbi pietà di me. Ah, sono tanto addolorata per te, gentile Silvio. Dove c'è dolore dovrebbe esserci conforto. Se ti addolora la mia pena d'amore, concedimi il tuo amore e il tuo dolore e la mia pena saranno eliminati. Ma tu hai il mio amore, non si ama il prossimo? Io voglio un altro amore. Oh, conosci il giovane con cui ho appena parlato? Non molto bene, ma l'ho incontrato spesso. Solo perché chiedo di lui non devi pensare che lo ami. È stato molto insolente con me. Sì, certo parla così bene. Oh, è un gran bel ragazzo. Non è molto bello. Le sue labbra sono di un rosso così adorabile. Un rosso un po' più vivo e un po' più carico di quello che ha sulle guance. L'esatta differenza che c'è fra il rosso vermiglio e la sfumatura del rosso damascato. Il personaggio di oggi è una donna piuttosto straordinaria, anzi forse togliamo il piuttosto, è una donna straordinaria, capace di giostrarsi tra una carriera d'attrice di primissima grandezza e la nascita di ben tredici figli da tre padri diversi. Noi oggi parliamo di Dorotia Jordan, attrice anglo-irlandese. Soprattutto irlandese. E il fiero carattere irlandese di questa donna è presente in ogni momento della sua vita. Lei nacque a Waterford, quindi siamo sul mare. Oggi il 21 novembre del 1761. Su alcune fonti è data per il 22. Lo so, è un tema che non mi ha fatto dormire la notte. Anche a me e noi come sempre abbiamo tirato un pari o dispari per scegliere il nostro metodo scientifico e abbiamo scelto il 21. Quindi chi è che deve una cena? No, la 22 e la 21 si scommette. È il metodo scientifico dell'almanacco. Di solito facciamo come per le previsioni su chi vince le elezioni americane e mondiali di calcio. O anche sul tempo. No, ma sai che c'è il polpo che dovinava, poi hanno preso un altro animale spaventoso. Noi lo facciamo col Babi Russa. Cioè, quando il Babi Russa va nella cassettina del Varano e russa, in quel momento allora è più pari. Se il Babi Russa invece che non ha la sua cassettina va nella cassettina del Procione, che si arrabbia moltissimo, è disparito. E in tutto questo Amerigo è escluso. No, anche Amerigo va nella cassettina di uno dei due, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti. Senti, lei non è propriamente figlia d'arte. In realtà sì che lo è, perché il padre Francis Bland è un macchinista di scena che a un certo punto molla Baracca e Burattini, la famiglia, lei ha 13 anni, per sposarsi con un'attrice. Manda pochissimi soldi alla famiglia di origine. E perché deve così impegnarli nel suo nuovo amore. Nel suo nuovo amore, ma che cosa accade? Che la famiglia è composta dalla nostra eroina, dalla madre Grace Phillips, che faceva anche lei l'attrice, quindi è figlia d'arte, e da altri cinque tra fratelli e sorelle. Un bel gruppo. Non è proprio una situazione allegrisse. No, in Irlanda c'è sempre la fame, comunque, c'è sempre delle situazioni ai limiti, poverini. Anche qua c'è sempre la fame. Anche qui, ma allora diciamo siamo nei 700. Quella è una fame per cui si porta rispetto, la nostra è proprio una roba da disperate. 1777, a 16 anni, la nostra Dorotia debutta in palcoscenico. In Dublin. Beh, nel ruolo della pastorella Phoebe in Come vi piace di William Shakespeare. Sì, perché siamo in un momento di straordinario revival, di passione totale, di grandi attori che si fanno strada e quindi il grande mondo di Shakespeare si impone attraverso le classi, tutti sono impazziti per Shakespeare nella seconda metà del 700. Dorotia non è una grande bellezza, ma ha talento comico, sa cantare, è alta, ha belle gambe, che non era una cosa da poco in quel momento, e nonostante le gambe femminili... No, lei è perfetta nei ruoli maschili. Sì. Mette dei bei pantaloni. Esatto. Comincia a indossare nella compagnia dello Smock Halley Theatre, diretta da Richard Daly, un autentico mostro. Sì, un pascalzone vero. Dove molto spesso appunto le parti che le vengono assegnate sono quelle dei maschietti. Parliamo di messe in scena cosiddette a generi invertiti, perché il pubblico amava molto questo tipo di escamotagio. Ci si divertiva con poco. Con poco, ma ci si diverte ancora adesso. Sì, però diciamo che è un po' sorpassato, un po' sorpassato il travestì, diciamo. Allora, cosa accade? Che il Daly, nonostante sia sposato, pian piano si invaghisce di lei e ben presto comincia a farle pressione perché gli si conceda. I ruoli che le affida peggiorano quando una delle sorelle si ammala e lui le presta il denaro per le cure, in cambio è proprio un mascalzone. La puoi incattare perché dice o mi paghi i debiti in altro modo o ti sbatto in prigione, ti faccio mandare in prigione. E quindi non va in prigione, rimane incinta di Daly, da un giorno all'altro Dorotia con la madre, il fratello George Bland che diventerà un attore e cantante di successo a Boston negli Stati Uniti e una sorella fuggono verso l'Inghilterra pur di liberarsi dalle minacce delle vessazioni del Daly, che non è il Daly Mirror. Che da lì diventa il Daly Telegraph. Il Daly Telegraph. Il passaggio del mare tra Irlanda e Inghilterra porta un grande cambiamento per la nostra Dorotia, finora lei ha usato il nome della madre Phillips, il cognome della madre Phillips, anche in scena e ora in onore della cosiddetta fuga dal faraone Daly decide di diventare Jordan come il fiume Giordano, capisci che cosa è intellettuale. Perché appunto lei ha attraversato il Giordano come lo hanno fatto gli ebrei alla fine della loro fuga dall'Egitto per raggiungere la terra promessa. Per Dorotia la terra promessa è Leeds, ognuno ha la sua terra promessa, è a Leeds. Non va a giocare a Leeds United, ma entra alla York Company guidata da Tate Wilkinson e nella compagnia di Wilkinson finalmente le attrici vengono trattate con rispetto e sposate o meno vengono indicate in cartellone con il titolo di Missus. Cioè signora, come si diceva allora. Allora, nonostante la gravidanza lei ottiene un immediato successo in parti leggeri o chiaramente non travestì, suscitando l'invidia delle colleghe. Quindi dove non c'è il terribile Daly ci sono le terribili colleghe. C'è sempre qualcosa. L'insegnante della compagnia Cornelius Swan è impressionato dalle sue abilità e dice in realtà Wilkinson ho dato alla Jordan solo tre lezioni e lei è così abile nel ricevere le mie istruzioni che ripete il personaggio così bene come ha sempre fatto la signora Ciburre. I left no ring with her! What means this lady? Fortune forbid my outside hath not charmed her. She made good view of me. Indeed so much that sure we thought her eyes had lost her tongue for she did speak in start distractedly. Oh no. She loves me. Sure. The cunning of her passion invites me in this churlish messenger none of my lord drink why he sent her none. I am the man. If it be so, as tis, poor lady, she would better love a dream. Disguise I see, though art a wickedness wherein the pregnant enemy does much. how easy is it for the proper foals in women's waxen hearts to set their forms. Alas, our frailty is the cause, not we, for such as we are made of such we be. How will this fag? My master loves her dearly. And I, poor monster, fonders much on him and she mistaken seems to dote on me. What will become of this? Ci sono dei critici un po' snobboni che non capiscono nulla e che sostengono che i suoi, diciamo, natali, non nobiliari e la sua povertà la rendano in qualche modo inadatta alle parti delle grandi eroine tragiche. D'altra parte siamo in Inghilterra dove la classe sociale ancora oggi dice qualcosa. E ancora, in quel momento, la più grande attrice tragica, la Sarah Sidons, la definisce inadatta ai palcoscenici londinesi. Siamo verso la fine del 1785 e arriva William Smith, detto gentleman, che la porta con sé al famoso Royal Theatre Drury Lane di Londra. Siamo nel West End, il debutto come Peggy nella commedia famosa della ragazza di campagna di Garrick viene molto ben accolta dalla critica. La natura l'ha dotata di talenti sufficienti per combattere e superare le sue rivali nelle stesse parti. Lei, oltre a eccellere nei ruoli di giovane ingenua, diventa in breve tempo l'interprete di riferimento, pensate, dei ruoli shakespeariani in cui la protagonista deve travestirsi da uomo. E allora è viola nella dodicesima notte e Rosalinda in Come vi piace. Il passaggio alle grandi famose eroine tragiche del bardo di Stratford-upon-Evon, quindi Ophilia in Amleto, Imogeni in Simbellino, Emilia in Othello, avviene con grande naturalezza. E secondo il critico William Haslitt, Dorotea non è come attrice ma come se stessa che affascina tutti. La sua voce è un cordiale per il cuore, perché proviene da esso ricca, piena, come il succo gustoso dell'uva ricca. Dell'uva ricca. Ma che è l'uva ricca? Senti, dal 1786 inizia una relazione con un giovane avvocato e magistrato, Richard Ford. Che non è né antenato di Detroit. No, non è Gerald Ford, non è Glenn Ford, ma è solo Richard Ford. Lei va a convivere con lui, nascono addirittura tre figli in quattro anni e lei spera che lui prima o poi la sposi e invece nada. Perché? Perché lui ha delle ambizioni politiche e non può legarsi a un'attrice plebea e quindi a un certo punto lei prende Baracca e Bugattini, lo abbandona, si porta via le due bambine sopravvissute alla nascita che verranno poi cresciute dalla sorella Esther. Esther, la sorella. Dov'è la bellissima regina di Danimarca? Dov'è? Cosa vuoi Ophelia? Sotto un sasso l'han sepolto Senza fiori, senza pianto Andrà in cielo, andrà all'inferno Ci ha lasciati, non ritorna Tutto questo che abbiamo raccontato, sì è interessante, effettivamente è una grande attrice shakespeariana ma dov'è che la nostra Dorotia Jordan raggiunge davvero la fama, anche per i posteri diciamo? La raggiunge grazie a uno dei frequentatori più assidui del teatro Sì, anche uno di quelli che aveva i danè Perché Guglielmo, duca di Clarence, terzo genito del re Giorgio III, la pazzia di re Giorgio Quello che farà poi questo duca di Clarence diventerà, qui siamo ancora alla fine del settecento, diventerà re nel 1830 Dopo il fratello, prima principe regente, poi re Giorgio IV E farà costruire la famosa Clarence House Dove ha abitato Carlo prima di diventare re Carlo è un nostro amico, non è Carlo d'Inghilterra, è proprio un Carlo che passava di qua Nel 1790 inizia una relazione, lui ha quattro anni più di lei Lei la usa questa relazione per fare in gelosia all'inizio l'altro, il Ford Francis Ford Francis Ford Ma dopo la separazione dice, beh, in fondo sono rimasta sola, accettiamo la conto del principe E va a vivere con lui a St. James Alla corte di St. James Guglielmo è il terzo genito del re ed è abbastanza indifferente Dice, ma chissà, ma io non diventerò mai re In effetti sarebbero passati ben quarant'anni prima che capitasse Però diciamo se erano morti tutti gli altri E quindi dice, va bene, posso andare a stare con un'attrice, non mi può succedere niente No, un po' di scandalo e buonanotte Non può sposarla, perché la legge sui matrimoni reali del 1772 Lo obbligherebbe a ottenere il permesso del re E dice, no, il permesso del re Non lo vado neanche a chiedere E non lo vado a disturbare Sono talmente lontano Quel padre è matto Magari se la sposa lui E sostanzialmente lui vive questa relazione mori-uxorio alla luce del sole Cosa vuol dire mori-uxorio? Mori-uxorio Come una moglie No, è la mora e lo suicidio Esatto A un amico, William, si confida e dice La signora Jordan è una creatura molto buona Molto domestica e attenta ai suoi figli Certo, a volte assurda e ha i suoi umori Ma cose del genere si trovano più o meno in tutte le famiglie In tutte le famiglie E lei, lei, devo dire Perché era una donna molto intelligente Intelligente E no, apprezza molto la compagnia Si diverte La casa Che ci mancherebbe Ma no, la casa è allegra E di fatto, essendosi poi incontrati a teatro Lui non le impedisce di recitare Certo Lei gli diceva di caduca Dica duca, duca lo dico io Lei di caduca Senti È un periodo di grande felicità domestica Siamo intorno al 1800 Sono immuni dai problemi delle guerre napoleoniche Non gliene frega niente E lei scrive una delle più celebri ballate folcloristiche scozzesi Per dire proprio la distanza Da quello che avveniva sul continente The Blue Bells of Scotland Che ancora oggi fa parte del repertorio di gruppi Ad esempio come i Chorus Piero la sa cantare No, no, io ho fatto parte dei Chorus I cani Chorus I cani Chorus poi mi hanno dato una licenza Per buona condotta sostanzialmente Dorotia e Guglielmo non stanno insieme poco 20 anni Più di 20 anni fino al 1811 E lì ancora figli No, siccome mi ha detto che lei aveva fatto un sacco di figli Ne arrivano 10 5 maschi e 5 femmine E chi è l'allenatore? E il cognome diventa Fitzclarence Per cui quando sentite parlare di un Fitzclarence Tenetelo nel giusto conto Accarezzatelo Perché comunque Guglielmo a un certo punto dice basta Basta Le assegna però Si separa e quindi le assegna giustamente un appannaggio Che detto così sembrerebbe poco Ma dobbiamo pensare che siamo all'inizio 4.400 sterline Purché lei smetta di ECBX Sì, perché non sarebbe stato bello insomma Madre dei figli del futuro re E certo Si dividono anche la prole Lui tiene con sé i maschi E lei le femmine Nel 14 Per sanare dei debiti Che erano stati contratti dal genero Thomas Halsop Che aveva sposato la figlia primogenita Quella avuta col mascalzone Daily Francis Dorotia o Dorotea È costretta a tornare sulle scene A quel punto Guglielmo Si arrabbia E le toglie L'assegno e la custodia Anche delle femmine Quindi non solo Waterloo Non solo Wellington Ma anche il caso Dorotia Jordan Terribile Perché a quel punto Lei è ridotta sull'astrico E impossibilitata a lavorare Vende ciò che le resta E va a vivere In Francia A Boulogne Proprio negli stessi Diciamo anni In cui la Francia Conosce Un cambio di regime È l'impossibilità però Di vedere i suoi figli E le notizie Che giungono dall'Inghilterra Secondo le quali Francis e Thomas Continuano ad accumulare debiti Prendendo denaro A prestito A suo nome Perché comunque Lei aveva un nome Ancora Spendibile E sono troppo E a un certo punto Lei muore sostanzialmente Come si diceva una volta Di crepacuore Di crepacuore No, è una storia terribile Perché lei muore Per una rottura aortica Il 5 luglio del 1816 Credo che sia giustissimo Ricordare questa splendida Donna, attrice, madre Donna coraggiosissima Duchessa quasi Quasi duchessa E sottolineare Quanto gli uomini A vario titolo Siano stati Degli autentici mascazzoni Ma nel peggiore Dei carognoni Di tutte le classi sociali I peggiori Dall'impresario al duca Tutti Tutti sbagliati Questi uomini E io in questa lista Metterei anche Leonardo Sì Comunque sì Perché siamo responsabili Ricordati Di tutto davanti a tutti Bene Un fiore per Dorotia Jordan Di tutto davanti a tutti Eleanor Powell, un'altra donna, la regina del tip-tap, nasce il 21 novembre 1910 a Springfield, dove siamo? Nel Massachusetts, che non è la Springfield Ohio, quella... Comunque ha vinto. E quindi i dog li hanno portato anche bene. Allora, il padre Clarence, Gardner Powell, abbandona la famiglia come per la povera Dorotia di qui sopra, quando lei ha solo due anni. Questo fortifica il carattere. E lei viene cresciuta da Blanche, la madre, e dai nonni materni. E' molto timida, ha un'infanzia la sua difficile, la madre a sei anni la manda da un maestro di danza, Ralph McKernan, che prima di lei ha già formato un coreografo e ballerino, Robert Halton. Quindi ha una solida base di danza classica, Eleanor aggiunge studi da acrobata, e in questa veste viene scoperta dal compositore e impresario Gus Edwards, che la vede esercitarsi sulla spiaggia di Atlantic City. Ha appena 12 anni, durante l'estate fa un numero artistico acrobatico all'hotel Ambassador, e a 15 anni arriva con la madre a New York per cercare di sfondare dove? Ha Broadway, ma lei non sa ballare il tip tap, e quindi le porte della mecca per lei non si aprono, la mecca del musical. Lei è una ballerina classica, abituata a pensare il pavimento come qualcosa da cui staccarsi, da cui fare evoluzioni. La tap dance non è il suo mondo. I suoi insegnanti le fanno allora indossare una cintura, questo è molto interessante, con dei sacchi di sabbia. Per tenerla a terra. Per tenerla attaccata a terra e farle sviluppare la sensibilità riguardo ai movimenti dei piedi, che quindi sarà questo decisivo per rendere il suo stile di tip tap così unico e così fluido. A casa non provate, eh? Noi abbiamo provato con dei sacchi di ceci e borlotti, ma l'esperimento... Del cemento. Del cemento. Ma tornando alla nostra Eleanor, quando balla con Fred Astaire le note di Begin the Begin... Col Porter. Col Porter. Siamo nel film Broadway Melody, 1940. Leggenda vuole che Fred abbia esclamato... Accidenti, non questa è più brava di Ginger Rogers. Questa è più brava di me. Ilionor debutta nella commedia musicale Queen High, 1930, insieme a un'altra diva agli albori appunto l'abbiamo appena nominata Ginger Rogers la sua carriera aspetta però altri 5 anni per decollare arriva alla casa di produzione cinematografica uguale a MGM la Metro Goldwyn Mayer e la Powell all'inizio non vuole firmare il contrattone perché? perché quei contratti capestro ti bloccavano per molti anni e non c'erano le evoluzioni del compenso l'abbiamo raccontato molte volte di come diventassero delle gabbie insopportabili che all'inizio carriera eri disposto a firmare ma poi quando scopiava la tua notorietà diventavano un po' delle fregature e infatti all'inizio rifiuta e per anche scoraggiare gli interlocutori propone un ingaggio stratosferico però Irving Talbert gigante mitico genio della Metro ne intuisce le potenzialità e quindi la spiazza perché consente consente a questa cifra e dice alla Major dà l'ok dice assicuratevi la presenza di Eleanor Powell e lei diventa un oggetto di culto per la MGM che non aveva mai investito su nessun altro artista come come di fatto fece con con la nostra Powell scenografi costumisti da tutto il mondo vengono create scenografie mobili che accompagnano queste movenze scatenate di una ballerina che diciamo ha tutti i registri della danza a questo punto quindi classica moderna e acrobatica lei appare per la prima volta sul grande schermo come interprete principale di Scandali di George White siamo nel 1935 soprattutto però stupisce il pubblico con l'energia e l'entusiasmo di Broadway Melody sì in italiano è Follie di Broadway il film che ne fece una star con le coreografie che fecero vincere l'Oscar a Dave Gold irresistibile il suo tip tap sing before breakfast da allora le affibbiarono il nome di Dinamo umana lei diventa la dominatrice con quel talento degli anni 30 e dei primi anni 40 e molti musical vengono evidentemente adattati alla sua figura al suo modo di danzare born to dance nata per danzare con Jimmy Stewart 1936 sono gli anni in cui lei veniva chiamata la ballerina con le più belle gambe del decennio degli anni 30 è veramente una donna che riesce a incantare gli Stati Uniti e chi l'avrebbe detto vista la timidezza visto i sacchi di sabbia e tutto quello che abbiamo recita anche con il super divo Robert Taylor e a un certo punto è la protagonista di Il Sosia Innamorato con Robert Young siamo nel 39 ma soprattutto è l'ultimo film della serie diretto da Norman Taurog Balla con me dove lei riesce a mostrare le sue impressionanti abilità c'è una testimonianza di Frank Sinatra che dice a proposito del debutto con Fred Astaire Quel numero di Tip Tap è un vero miracolo potete anche sperare ma non vedrete mai più qualcosa di simile Arrivano altri successi sensazionali Leonardo Sì Lady Be Good Fascinating Rhythm di George Gershwin lei danza nel suo salotto con il cane da lei stessa ammaestrato pensate era adorata dal pubblico pensate su classica vale la pena ricordarlo era anche che attore straordinario rifammelo era anche adorata da Arturo Toscani qui è nel momento in cui impreca che la definì la più grande ballerina vivente e il suo il suo modo il suo il suo stile è qualcosa che assomigliava solo a lei che nessun'altra poteva esibire che nessun'altra possedeva parliamo di acrobazie passi lunghi salti all'indietro le movenze che fino ad allora erano solo riservate ai maschietti poi c'è però un momento così di stacco di stasi e di difficoltà perché arrivano i musicoli a colori e quindi nelle scene si impone Ginchelli che aveva sofferto nella prima parte degli anni 30 da questa concorrenza Ginchelli e con Ginchelli arrivano le grandi dive a colori Sid Charis Debbie Reynolds Ann Miller e Leslie Caron Eleanor con la sua bravura comunque riesce a resistere però non è adatta a tutti i film si non è non può fare tutto e le tocca e deve accettare di dover farsi doppiare doppiare gira la parata di stelle dove ha un ruolo marginale pochi minuti è un numero collettivo e decide di abbandonare la metro però la metro non si dimentica di lei e nel 50 uno potrebbe pensare alla soglia degli 80 invece era 40 anni per un ballerino di allora certo e Leonardo nella duchessa dell'Aidao protagonisti Esther Williams e Van Johnson lei si scatena in un boogie woogie irresistibile come quando faceva il tip tap lei sarà addirittura celebrata in una trilogia di documentari prodotti sempre dalla MGM e nel 1965 verrà nominata la più grande ballerina di tip tap del mondo del mondo da tutti i grandi maestri americani Eleanor Powell muore di cancro all'età di 69 anni l'11 febbraio del 1982 è stata inserita tra le celebrità della mitica Hollywood Walk of Fame al 1541 di Vine Street se proprio volete andare a omaggiarla e ancora se volete andare a vedere dove è sepolta siamo all'Hollywood Forever Cimeter lo ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify e Apple Podcast sul canale YouTube di Intesa San Paolo On Air cercando al Manacco di Bellezza 2024 alle nostre spalle la gallina spenta che dire e quindi non ci resta che leggere il Timbota e oggi Giuvidee Amad Paglia uomo di paglia che sarebbe? prestanome io sono un prestanome in che senso hai prestato il nome? no lo continuo a fare se mi pagate io presto il nome quindi questo è un appello ai telespettatori invece vi pago se vi prendete Leonardo ma per sempre o per un po' no per un po' a Minoleggi ma sì perché poi mi manchi dai Minoleggi sì sì quanto è? costo molto no no lo dico solo a loro va via per niente va via per niente se no ti monti la testa avanti io vengo se viene anche Amerigo no Amerigo rimane qua qua è incatenato come va a venire avanti i ceppi di Amerigo i ceppi come Arese l'Arese dello Hayez dopo Lo Hegel c'è lo Hayez e anche lo Arese lo Aese sì per omaggiare diciamo questa protagonista della prima parte dell'Almanaco Dorothea Jordan e anche questo mondo di fine Settecento cosa di meglio di William Blake William Blake perché dopo John Constable nel 2022 dopo William Turner nel 2023 prosegue con William Blake l'attività di Venaria la collaborazione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con la Tate dedicata ai principali esponenti dell'arte romantica quando vedi William Blake poi fai i sogni strani strani sembra sempre un po' delle immagini LSD sì che è un po' quello che succede al Varano quando mangia la minestrina in mostra capolavori come la notte della gioia o la sepoltura accanto a opere di artisti che di Blake furono contemporanei Eric Fusley Benjamin West e John Hamilton Mortimer adorato Fusley pensavo Mortimer no io sono pazzo di Fusley io per un Fusley prometterei anche dei delitti si dice anche fare le Fusley fare le Fusley come i gatti o mangiare i Fusley come i Fusilli io direi che a questo punto Leonardo chi cambia canale è un fusillo è un fusillo o una fusilla o un Fusley un Fusley va bene ci vediamo domani Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo